Mentre per i 5 stelle la strada è sbagliata perché non è modificando le tipologie contrattuali che si può creare lavoro. I sindacati, quelli là che hanno difeso e protetto le ingiustizie in questi anni, sono quelli che afferiscono a loro. Sono sindacati che afferiscono ai loro partiti. Di cosa stiamo parlando? Qui si fa un teatrino televisivo, però poi si mettono i sindacalisti a presidente delle commissioni lavoro e attività produttive della Camera che sono del PD, Epifane e Damiano. Allora di cosa stiamo parlando? Grazie a tutti.